Ciao amici, sono PaninoTube e oggi torniamo su Evil Nun, torniamo dalla nostra cara suora Ma siamo con una versione molto particolare del gioco Perché è uscita una mod in cui la nostra cara suora diventa un personaggio molto particolare Siamo con la mod di Barbie Prima di cominciare, prima di provare questa mod, mi raccomando lasciate qui sotto tantissimi like Condividete il video, iscrivetevi al canale con la campanella attiva Se domani volete comparire nella lista dei soluti dovete scrivere qui sotto nei commenti La parte del video che più vi è piaciuta E poi la parola segreta che è biscotto Quindi parte del video è piaciuta Biscotto e domani comparirete nella lista dei soluti Che tra l'altro vi ricordo che la lista dei soluti si trova proprio in fondo al video All'ultimo minuto del video compare proprio questa lista con tutti quanti i nomi Ma ora finalmente direi di partire e direi di cominciare perché non vedo l'ora di provare questa mod insieme a voi E' davvero da tanto tempo che non tornavo su Evil Nun Però è uscita questa nuovissima mod Ok devo mettere il nome, mettiamo qua il proprio nome, metto PaninoTube Ok nome messo Questa mod è stata fatta da D.U.Anim Quello che ha fatto pure le altre mod che abbiamo visto in passato Quelle su Ice Cream, Mr. Meat E tra l'altro per poterli installare bisogna disinstallare il gioco iniziale Va bene direi di partire subito Facciamo qua almeno una modalità facile perché da un po' che Che non ci gioco però tolgo il tutorial Quello non lo voglio fare Niente tutorial Perché ormai lo conosco bene sto gioco Uh ma guardate qua l'automobilina com'è No vabbè spettacolare Tutta su rosa, pure la strada su rosa No va bene Mamma mia è la prima volta che faccio una mod Dove Evil Nun si trasforma in qualcosa Questa è la prima mod che io faccio Ok dai su su Veloce veloce che non vedo l'ora di vedere qua Come è diventata la nostra cara suora E quella lì Voilà suoretta buonasera Buonasera mamma mia come mi sei mancata Mi sei mancata tantissimo E qua ti vedo poi E vabbè e vabbè e vabbè Sempre così Cioè io le dico pure che mi è mancata E questo è l'affetto che lei mi dimostra Ma dai suora Nooo ma io ti voglio bene suora Io ti voglio bene Ti vorrei abbracciare Sono panino tube e starò bene Va bene va bene Ok qua siamo proprio la prima partita Quindi qua il bunker ancora non si può aprire Adesso non fa nulla Sì infatti non ho proprio niente Nessuna arma Nessun oggetto per mettere fuori uso la suora Voilà buonasera buonasera Facciamo molta attenzione Ok allora Dobbiamo salire nel piano superiore Per recuperare il cavo elettrico Con il cavo elettrico Noi possiamo praticamente aprire direttamente il cancello Ok la suora è di qua Suoretta Voilà buonasera Ok la suora non è di qua Guardate qua gli ambienti come sono Tutti gli spazi Spettacolari Sono fatti molto bene Sono fatti benissimo Ok troviamo subito qua il cavetto Va bene Vediamo qua Voilà buonasera E il cavetto è sempre l'ultimo cassetto Ogni volta che io cerco questo cavetto È sempre l'ultimo cassetto Nooo Ok Apriamo qua Suoretta Vieni qua Vieni qua suora cara Vieni qua che ti voglio tanto bene Che c'è un panino che ti vuole bene Mamma mia mamma mia Ok allora ho fatto rumore Così cerco di attirare la suora qua nel piano superiore E noi ce ne scendiamo direttamente Suora E dai suora Tre ore Che poi la scuola non è che chissà quale grande grandezza Grande grandezza Sì vabbè comunque volevo dire Non è che è grande chissà quanto Ora io ho paura a scendere Perché so già Che appena io scendo Me la trovo qua davanti Subito qua davanti Nooo Ah 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 Mi sa che il quadro non ha fatto effetto Perché non sta proprio salendo Non ne vuole sapere proprio nulla Va bene va bene È là Guardatela Ciao suora Ah 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 Guardate come è diventata la suora Praticamente io potevo scendere tranquillamente ma Scusate Ma non passa dalla porta Non passa dalla porta Non è che si è buggata qui dentro Si è pure buggata la suora Stamodo pure è buggata Vabbè da un lato meglio così Così io almeno posso scendere tranquillamente E attivare lì il cavo elettrico Scendiamo 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 Veloci Toretta dove sei dove sei Ok Apriamo qua l'interruttore Perfetto perfetto Ora mettiamoci a cercare la scopa Perché con la scopa noi potremo scappare via dalla scuola Dove è la suora Sento la sua musica Sento la sua musica ma non la vedo È riuscita ad uscire No 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 La suora è uscita fuori È uscita dalla porta No Facciamo attenzione Facciamo molta 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 attenzione Ok prendo qua le monete Mamma mia Per poco per poco Me la sono ritrovata lì davanti No 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 Scappiamo scappiamo scappiamocene subito Via No 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 Me la sono trovata lì Avete visto Avete visto Mi ha raggiunto nel piano superiore No suora no Va bene nel frattempo Noi esploriamo anche gli altri posti Perché siamo qua In questa mod Però voglio vedere gli spazi come sono diventati Non voglio scapparmene subito via Anche perché voglio divertirmi un po' con la suoretta Voila suora Buonasera Buonasera Andiamo di qua Vediamo da questo lato come è diventata Mi servirebbe la crowbar Vediamo se la troviamo nel cortile Guardate qua la palestra com'è Spettacolare Bellissima questa palestra Bellissima Cioè nel senso È un po' troppo rosa Però È fatta bene Devo dire che le mod fatte da Di hack animation Sono fatte veramente bene Complimenti davvero Complimenti Qua invece com'è Ah Qua invece è rimasto uguale Qua non è cambiato proprio E la crowbar non è di qua No Mi sa che devo salire di nuovo Nel piano superiore Per recuperare la crowbar Qua invece non si vede Peccato Peccato Eh non ci posso andare Perché ancora non ho sbloccato qua Il capitolo del cimitero Quindi non lo posso vedere Vediamo qua i bagni come sono No i bagni Sono rimasti uguali Non sono cambiati i bagni Però dobbiamo andare Nel piano inferiore Sotto sotto Voglio vedere come è diventata La fognatura E il cortile esterno Suoretta Suora Dove sei? Dove si trova? No eh Non voglio ritrovarmela qua Nel nulla Va bene Vediamo anche qua le altre stanze Le aule come sono diventate di qua Ah beh La libreria è così È in questo modo Va bene Va bene Apriamo qua invece Non ti bloccare Mamma mia Che qua bloccarsi un attimo Ci troviamo subito La suora in due secondi Se ci blocchiamo Ok Qua invece Vediamo da questo lato Non è di qua Ok va bene Dobbiamo salire di sopra ora Perché dobbiamo recuperare la crowbar Dov'è? Ah eccola Mamma mia Si era proprio mimetizzata Si era mimetizzata Con l'ambiente Con i posti Ciao suora E vedo che il tuo nuovo vestito Ti sta molto bene Ti sta bene il nuovo vestito Complimenti suora Complimenti Ottima scelta Fatemi sapere se vorreste vedere anche nuovi video su Evil Nun Perché è da un po' di tempo che non lo porto Però Ci può stare Se magari siete interessati a vedere un nuovo video Per me farebbe solo piacere Perché Evil Nun è uno dei miei giochi preferiti Devo dire che Grazie di Bon Nan Il mio canale è cresciuto Ok scendiamo qua Perfetto Ora con la crowbar Possiamo andare direttamente in bagno Per poi scendere Nella fognatura Suoretta Dove sta la suora La nostra cara suora non è di qua Perfetto Perfetto Possiamo andare direttamente qua in bagno Per poi esplorare sotto le fognature Wow che bello Che bello Chiudiamo qua la porta E ora ce ne andiamo direttamente qua Si tecnicamente potrei già scapparmene via Perché tanto la scopa si trova nel piano superiore Però voglio esplorare anche questa mod Voglio vedere come sono diventati i vari posti I vari ambienti Voilà buonasera Eccoci qua Eccoci qua Ora Questa io la lascio di qua Così la suora viene di qua Non viene nella fognatura Che tanto è rimasto uguale Non è cambiata la fogna E così Nooo Io già mi immaginavo una fognatura tutta quanta su rosa Però possiamo ammirare la scuola da fuori Guardate qua Qua il parcheggio è rimasto uguale Non è cambiato E così Però guardate com'è qua la scuola Spettacolare Bellissima Tutta quanta in quel modo Decorata Sempre meglio di quel grigio che c'era prima Sempre meglio Ok qua praticamente ci sarebbe la biglietteria Dove ci sta l'uomo misterioso Però ovviamente Non avendo ancora cominciato i capitoli qua Non avendo neanche la maschera Non possiamo fare praticamente nulla Ok La suora Suoretta dove ti trovi Vediamo qua come è diventata Sarebbe bello se si poteva andare a vedere com'era la lavanderia Purtroppo non ci sono dei bug che ci permettano di scendere sotto Però sarebbe stato carino Sarebbe stato molto simpatico Possiamo però ammirare quale scale No vabbè ma con queste scale così Sarebbe stato bello vedere sotto com'era Sarebbe stato veramente molto bello E invece ci tocca a muoverci qua Nooo Ok apri qua la chiave Perfetto Andiamo sopra Sperando che la suora non sia qui nel piano superiore Così andiamo a vedere l'altra ala del piano superiore Ok Qua Perfetto Dovrebbe trovarsi qua la scopa Infatti si trova qua Quindi prendila velocemente Vediamo qua invece nei dintorni com'è Questa stanza com'è la segreteria No Aule L'aula E in questo modo Purtroppo non posso vedere qua dentro Perché c'è bisogno della chiave Che si sblocca solo quando si fa il capitolo del rituale Però bello qua Bello bello Dai Mi piace mi piace Ok Possiamo andare a recuperare la scatola di cioccolatini Scendendo qua direttamente Ok Voilà Suretta Dove ti trovi? Dove sei? Dove sta la mia cara suora? Mi è sparita Evil Nun Mi è sparita Nooo Che poi per chi non lo sapesse Evil Nun è la madre di Ice Cream È la madre di Rod Infatti i due giochi sono collegati E per questo motivo che infatti mi piace anche la serie di Ice Cream Prendiamo qua la scatola dei biscotti Va bene Va bene Suretta Dove sta la suora? Ok Non vedo Evil Nun Ora Io dovrei salire nel piano superiore Però non vorrei mai Che io salendo di sopra Mi becco la suora Il che è molto probabile Perché io sono sceso ora Sono sceso Suora Voilà Ok Posso andare di qua tranquillamente Perfetto Perfetto Ora Andiamocene qua nel balcone Qui Chiudiamo subito la porta Perfetto Ora non ci resta altro che lanciare la scatola dei biscotti Voilà Ah 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 Mamma mia che bel volo che glielo ho fatto fare Mamma mia Suora Buonasera Dove ti trovi? Dove ti trovi? Non la vedo Ora qui veramente ho fatto rumore Cioè Più rumore di così Perché la suora non viene? Perché? Ma dai Ma dai No veramente ho fatto rumore Secondo me si è bloccata da qualche parte Altrimenti non saprei spiegare il fatto che lei non sbuchi fuori Cioè per forza Dove è finita? Dove mi hanno fatto sparire la suora? No veramente Ma che fine ha fatto? Che fine ha fatto? Ok prendi qua la chiave Perfetto E niente abbiamo la chiave Possiamo già scapparcene via Quindi io direi di fare una bella cosa Andiamocene via da questa scuola Dov'è? No No Eccola Eccola Via 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 Scappiamo scappiamo Mamma mia Ma questa si mimetizza con le pareti Diventa uguale alle pareti No Ma dai Via 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 Ah ma qui dentro non ho ancora visto com'è Vabbè Seminiamo un attimo la suora Così vediamo anche quella stanza Vediamo anche qua com'è diventata Ok qua in questo modo Il bagno tutto quanto su rosa La suora mi è sparita Mi è sparita Facciamo una cosa Io Ora direi di scappare via Dopodiché torniamo in partita E vediamo com'è diventato Il bunker Perfetto Scappiamo via dalla suora vestita da Barbie In questa mod molto particolare Ma fra poco torneremo Torneremo molto presto Perché andremo a vedere il bunker Com'è diventato Sarà molto 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 divertente Anche qua il filmato Spettacolare Ok Si è aperto Perfetto Perfetto E ora andiamo a vedere il bunker Tra l'altro Oggi è un giorno molto particolare Perché 13 agosto È la data in cui gli sviluppatori Hanno detto che uscirà Mr. Meat Ora io sto registrando questo video Un giorno prima Quindi non so se Ora come ora Mr. Meat è stato già aggiornato Oppure no Però domani preparatevi Perché voglio fare un grandissimo video Proprio su Mr. Meat Con il nuovo aggiornamento Va bene Tocchiamo continua E rifacciamo un'altra partita Per vedere come è diventato il bunker Perfetto Tocchiamo gioca E si parte E si parte Ok saltiamo pure l'introduzione Tanto ormai L'abbiamo già vista No mettiamo grafica alta No ma perché ho giocato in grafica media Vediamo alta Voglio vedere la grafica bella alta Con questo mod Giorno 1 Si parte Che bello che bello Ok sono panino tube Starò bene Si si ma io qui sto sempre bene In questa scuola Io sto sempre bene Perfetto Perfetto Devo lasciare questa scuola Si un giorno la lascerò Ok Apri con la porta Chiudiamo E vediamo il bunker Come è diventato In questa mod Scendiamo 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 Velocemente Voilà Buonasera Ullala Ma è bellissimo Ma è spettacolare Questo bunker No Ma dai Cioè io pensavo Inizialmente Che il bunker Non fosse stato modificato Perché ho visto Dal filmato iniziale Che qua le scale Sono rimaste uguali Poi scendo qua E mi vedo Questo bellissimo bunker Ok Vediamo qua Giusto per vedere Com'è il televisore Inserisci qua il gral Ok Vediamo qua Si è avviato il filmato Perfetto Perfetto E ora Vediamo qua il televisore Com'è No Va bene Dai Direi di fare una cosa Direi di fare una cosa Direi di finire con questo video Fatemi sapere Cosa ne pensate Fatemi sapere Cosa ne pensate Proprio di questa mod E se vorreste vedere Anche i nuovi video Di Evil Nun Qui di lato a me Adesso troverete La lista dei saluti Con quelli che ieri Hanno commentato Con la parte del video Piaciuta E poi la parola segreta Spero che questo video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Spoliciate Condividete Iscrivetevi al canale Con la campanella attiva Noi ci vediamo In un prossimo video Che sarà appunto Domani Alle 12.05 Oppure stasera Alle 19 Nel secondo canale Come sempre Vi auguro una buona giornata Una buona serata E una buona notte Ciao a tutti E tanti cari saluti Anche dalla nostra Carissima Evil Nun Ciao 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 Ciao